Marco, vedete che ora siamo scendendo in attenzio adesso un buon altro compasso? Allora, siamo pronti con il testo giù, tutti, la seconda è sempre la stessa, top eccellenze! Eeeh! Maiale! Per le nuove cilinze, Carmine Grunas! Per la fila di l'incompanione, a noi! Allora, 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 allora! Allora, allora, allora! Allora, allora, allora! Bene! Bene, bene! Anche l'ultimo giù, panco? Allora, d'accordo!